In questo momento l'istituto in cui io lavoro, che si chiama Istituto per la Ricerca Sociale, è impegnato in una valutazione europea sul tema del contributo... In questo momento l'Istituto per la Ricerca Sociale, che è l'istituto dove io lavoro, è impegnato insieme ad altri partner europei su una valutazione finanziata dalla DG Regio sul contributo degli interventi finanziati sui temi del turismo e della cultura per le politiche di sviluppo e coesione dell'Unione Europea. Quindi quello che stiamo cercando di capire utilizzando i concetti della valutazione d'impatto della teoria del cambiamento è di classificare e insomma analizzare quali diverse categorie di intervento e di strategie di intervento che vengono adottate a livello europeo su questi due temi, sul turismo e cultura, quali tipi di intervento concretamente sono stati finanziati, che cosa è stato prodotto e quali risultati sono stati raggiunti. Si tratta di un panorama molto eterogeneo di interventi finalizzati a cose molto diverse per cui padroneggiare bene il tema della teoria del cambiamento ci è particolarmente utile per selezionare alcuni ambiti di analisi più importanti di altri e per portare avanti la valutazione. Grazie a tutti!